Ho iniziato a sciare molto presto, da piccola, avevo meno di due anni e sono i miei genitori che ci hanno trasmesso questa passione della montagna e da sempre ci è rimasta. Noi, tenendo noi sempre come noi tre, io con i miei due fratelli Matteo e Marco e anche loro sono rimasti legati molto a questo posto, anche perché mio fratello Matteo ha le pecore e tutti gli anni viene qua in Alpeggio e da quest'anno mio fratellino Marco invece ha preso in gestione il rifugio a questa, quindi diciamo ancora di più queste montagne le sentiamo nostre. Noi chiamiamo la casina a questo posto, al lago di Valle Scura, abbiamo questa piccola casetta legato a questo c'è tutta l'infanzia, tutti i ricordi, tutto quello che abbiamo passato qua io con i miei fratelli. Avendo una vita sempre tanto stressante con la gente, richieste eccetera, io quando vengo qui e metto il telefono in modalità aereo so proprio che sono da sola e posso stare tranquilla, posso non dover pensare a niente, non avere orari e quindi la vedo proprio per staccare la testa, rigenerarmi. È l'unico posto in cui veramente riesco a essere me senza dover essere Marta Bassino che scia. Sono così affezionata a questo posto, queste montagne che ogni tanto mi chiedo se è davvero così bello anche per la gente o se io lo vedo meraviglioso perché ci sono così tanto affezionata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.